ancora ben trovati da firenze smart mauro ciutini in studio prudenza in a1 ricordo è chiusa l'uscita di firenze sud provenendo da roma per il ribaltamento di un camper l'uscita consigliata firenze in pruneta sempre in a1 tra roncobilaccio e rioveggio personale su strada in direzione di bologna veniamo ai treni il 1951 castelnuovo lucca ricordo è stato cancellato viaggiatori con il 1959 lavori a firenze in via letruria ricordo fino all'otto ottobre rifacimento completo della pavimentazione in ingresso città nel tratto dalla fine della fipili alla rotonda carlo azelio ciampi restringimenti di carreggiata per fasi non ci sono altri aggiornamenti al momento muoversi in toscana è realizzato in collaborazione con regione toscana città metropolitana comune di firenze